Che cosa è successo? Tanto per sintetizzare brevemente, due anni e mezzo fa abbiamo approvato noi un piano di risanamento del comune di Casamiccio che doveva essere realizzato in dieci anni. Il piano poteva essere bello, brutto, migliorabile, non lo so. Fatto sta che però nei due anni e mezzo successivi non è stato fatto assolutamente nulla. Allora, quando la Corte dei Conti che doveva approvare comunque questo piano ha chiesto al comune di Casamiccio la Terme una serie di chiarimenti, il comune di Casamiccio la Terme non solo non ti è giustificato per non aver fatto assolutamente nulla nei due anni e mezzo, ma per quanto ha dato delle risposte assolutamente evasive. Conseguentemente che cosa è successo? Il piano è stato bocciato. E adesso che cosa succede? Adesso al netto della crisi isterica che ha avuto il Sindaco, per alcune mie critiche assolutamente normali, perché ho detto che probabilmente, non so se ti ricordi, anche durante le trasmissioni che facevamo, io lamentavo che loro non si stavano impegnando assolutamente per la realizzazione del piano. Ho mostrato le critiche al Sindaco dicendo che probabilmente si potevano anche attivare in quest'anno e mezzo, lasciamo perdere il commissario prefettizio, ma nell'anno e mezzo che sono stati loro si potevano attivare. Ora il guaio è stato fatto. Per l'amministrazione penso che non cambi nulla, perché penso che la possibilità di continuare a fare quella fiera che fanno nel mese di agosto e che chiamano Expo Internazionale, cioè quelle quattro baracche che montano nel mese di agosto, penso che tranquillamente le potranno fare. Per quanto riguarda le feste di piazza non vedo controindicazioni, quindi i loro elettori sono sereni perché quando faranno le varie manifestazioni avranno un posto in prima fila. Chi praticamente usufruisce del posto barca e non paga continuerà a non pagare e quindi tutto il mondo sta in pace, non vedo quale possa essere il problema. D'accordo per loro non cambia nulla, ma per i cittadini di solito quando si parla di dissesto si dice sempre adesso aumenteranno le tasse? Per i cittadini invece sono cavoli amari perché praticamente fino a quando non si chiuderà la procedura di dissesto, i tempi non sono assolutamente brevi, le tasse resteranno necessariamente al massimo previsto dalla legge. E questo crea però una contrapposizione rispetto al programma che avevano presentato questi signori, perché questi signori avevano detto che tutte le responsabilità erano le mie e che loro invece nel loro programma elettorale hanno scritto che tranquillamente avrebbero provveduto a risanare le finanze del Comune di Casamicciola Terme e altre amenità del genere. Purtroppo i cittadini di Casamicciola si devono adesso sciroppare per i prossimi anni l'insipienza di questi amministratori. Purtroppo i cittadini di Casamicciola